Questo speciale è stato realizzato da conduttori non iscritti all'ordine dei giornalisti. Prendersi cura della propria persona non è solo un fatto estetico, mente, corpo e spirito sono un tutt'uno. A Fano, Dalia Farma Estetica è un luogo dove la passione si incontra con la conoscenza ed ogni singola azione tiene conto di tutto. Ora con Dalia ci si può occupare della propria pelle e della psiche grazie alle profonde conoscenze e le esperienze di chi lo gestisce. Si chiama Farma Estetica perché abbiamo il reparto di parafarmacia e uno studio estetico perché io sono sia farmacista che estetista e fondamentalmente ci occupiamo di cura e di benessere estetico quindi parlando appunto di manicure, pedicure, epilazione, però anche facendo l'estetica base siamo molto attenti al prodotto che andiamo ad utilizzare. Cura del benessere invece psicofisico parlando di trattamenti un pochino più importanti come trattamenti a base di acido glicolico o a base di acidi bionici, samsara per quello che riguarda il trattamento del corpo. Poi un'altra cosa che secondo me è molto importante è la consulenza qualificata e affidabile nell'acquisto del cosmetico perché difficilmente vendiamo un cosmetico così in velocità ma se possiamo e se la cliente ha tempo lo facciamo proprio provare, quindi testare sulla pelle. A quel punto la cliente non sbaglia l'acquisto. Collaboriamo anche con Amanera di Paolo Tarantini e Giacomo Tonucci, uno studio fotografico e ci occupiamo degli sposi per quello che riguarda il benessere e l'estetica partendo proprio da non il giorno stesso delle nozze ma partiamo da 10 giorni prima, 20 giorni prima perché sono momenti comunque molto stressanti. Altra cosa estremamente importante, organizziamo eventi cercando anche di informare il cliente, ecco l'inci, per quale motivo è bene fare un trattamento e non un altro, quindi facciamo anche informazione. Ecco un valore aggiunto è la centralità dell'individuo. Noi abbiamo come Dalia Farmaestetica tre linee guida fondamentali, la prima è la personalizzazione quindi non è possibile standardizzare un trattamento ma noi lavoriamo nell'unicità comunque dell'individuo. L'artigianalità è un altro concetto per noi molto importante perché andiamo a cucire, quindi siamo un po' dei sarti del benessere, andiamo a cucire il trattamento più giusto, il mix di trattamenti all'individuo. E in ultimo, ma non sicuramente per importanza, è il mantenimento dei risultati raggiunti. In che modo? Con lo stile di vita. E quindi ad oggi mi piace pensare, e il nostro obiettivo è questo, di diventare proprio un punto di riferimento per quello che riguarda la cosmetica consapevole e il trattamento consapevole. Ecco e soprattutto anche un counseling con il cliente, hai piacere di seguirli in tutto il loro percorso. In quest'ottica infatti lavoriamo moltissimo anche con delle sinergie. Per sinergie cosa intendo? Intendo che per avere oggi una bella pelle non è possibile fare un trattamento al mese e poi a casa magari non utilizzare nulla, ma è necessario fare un trattamento al mese, perché no, a casa fare i compitini, diciamo così, per cui l'autocura domiciliare è importante e quando è necessario fare integrazione alimentare, sia per quello che riguarda lo stress ossidativo, sia per quello che riguarda magari il cedimento a livello proprio strutturale del dermo e quindi magari un'integrazione a base di acido ialuronico oppure collagene e quant'altro. Per cui non è una cosa che porta al raggiungimento dell'obiettivo, ma sono il cross e quindi l'incrocio di più cose. Questo spazio lo utilizziamo sia per le discipline olistiche, quindi come dicevi prima, per il corpo e per la mente, ma è uno spazio che abbiamo comunque tenuto, diciamo, per degli artisti. Quindi ad oggi abbiamo a maniera foto Giacomo Tonucci, che ha fatto queste foto, secondo me, veramente stupende, e poi di sotto invece un'altra artista che si chiama Maria, che lavora con della carta e quindi utilizza proprio, fa dei bijoux, uno è questo, e utilizza questa carta e poi la tratta con una resina particolare, formando proprio delle strutture e delle opere d'arte e quindi anche di sotto abbiamo proprio due allestimenti veramente particolari. Ecco, questo si incastona perfettamente nel concetto che tu hai per questo spazio, cioè vuoi che tutto sia riconducibile alla persona, un concetto e un principio al quale tu tieni molto. Sì, perché fondamentalmente si pensa, in passato forse più di oggi, che l'estetica era qualcosa un po' di superficie. Non è assolutamente vero, perché l'estetica è di fondamentale importanza oggi più di ieri per il discorso dell'invecchiamento, anche perché si è protratta la vita media. Oggi a 40 anni un individuo, sia uomo che donna, deve essere competitivo, sia sul piano, diciamo, proprio lavorativo, per cui si deve reinventare, ma anche da un punto di vista privato, nelle relazioni interpersonali. E quindi in questo spazio ho deciso di fare anche cultura. Cioè, diciamo che da qualche anno la parte estetica è una parte importante e parliamo anche di cultura. L'altra cosa in cui crediamo tantissimo è proprio l'energia quantica, ovvero abbiamo una linea di cosmetici che utilizza proprio la cosmetica quantica all'interno. Cioè, sono tutte oli essenziali, estratti, senza l'utilizzo di solventi, sale per esempio, rosa dell'Himalaya, pietre, minerali e quant'altro, che quando vengono poi a contatto della pelle, al di là del fatto che hanno un beneficio da un punto di vista eodermico, ma hanno un beneficio anche mentale, perché come dicevi tu prima, comunque mandano dei segnali tramite delle energie sottili all'individuo. E quindi, diciamo, è veramente un benessere a tutto tondo, non ci fermiamo alla pelle, ma lavoriamo anche sulla psiche. Bene, allora, visto che hai stuzzicato la nostra curiosità, andiamo di sotto e ce li presenti. Perfetto, benissimo. L'azienda si chiama Samsara ed è un'azienda che si rifà alla medicina tibetana. Ogni prodotto, al di là del fatto che chiaramente non si sente in televisione, ma già utilizzare una crema di Samsara è proprio un viaggio sensoriale. Per cui, anche all'interno abbiamo diversi principi attivi, quindi i cristalli, abbiamo i minerali, olio essenziali spremuti a freddo senza l'utilizzo di solventi. Tra questi, il Deva, che è il mio preferito, che è proprio di Il Divino, che serve proprio per portare, diciamo, l'essere ad uno stato di rilassamento totale. Contiene l'olio essenziale di rosa da mascena, è ottimo come antirughe. Lo zenzero, che qua abbiamo anche messo, diciamo, su questa ciotolina, per fare un po' di ambiente. La cannella, esatto. Interessantissimo come prodotto è questo, ed è il sale dell'Himalaya. Questo è uno scrub, facciamo sia trattamento in cabina che autocura domiciliare, ma è bellissimo questo trattamento, perché il sale rosa dell'Himalaya, oltre ad essere ricco di oligoelementi, perché ne ha addirittura 83, è molto molto ricco di ferro. Quindi lascia la pelle estremamente levigata, molto luminosa, anche dopo l'estate. Va a lavorare anche sul turnover cellulare, per cui rinnoviamo tutte le nostre cellule. E tra l'altro ha, diciamo, la caratteristica di andare ad eliminare le energie negative. Le tossine, sì, tossine di energie negative. Tant'è che, diciamo, l'ideatore di questa linea mi ha detto, prendi un po' di sale e poi mettilo, esatto, negli angoli, in una ciotolina. Perché quello assorbe tutta la negatività. Quindi, insomma, la sua azione, insomma, di ritenzione idrica, la fa anche sulle negatività. Assolutamente, sì. Va bene. Che tipologia di utilizzo viene fatta? Cioè, dove la indirizzi questa tipologia di prodotto? Allora, questo lavoriamo sul corpo. Solitamente noi, per quello che riguarda i percorsi proprio Sansara, assolutamente iniziamo con il sale dell'Himalaya. E poi decidiamo che tipo di percorso fare, dopo un'attenta analisi. I percorsi sono il Tejas, il Shakti Deva, poi abbiamo il Deva che qua l'ho terminato da in cabina, e il Pripti Jala. In base, diciamo, allo stato della pelle e anche al momento psichico che viviamo. Per cui non è una cosa, dici, faccio questo. No, bisogna un attimo sedersi e capire che cosa devi fare. Qualsiasi sia il percorso che volete intraprendere, avvaletevi di esperti e di persone che hanno una conoscenza approfondita. Non solo di quello che vi danno e che vi propongono, come in questo caso Cecilia, ma anche della vostra condizione generale. E ne sono capaci di valutare. Tu hai una fondamentale conoscenza, insomma, della chimica, di tutto, essendo farmacista. Quindi hai capacità analitica per approfondire la conoscenza di un singolo prodotto. Questa è l'essenza. È vero, infatti ho scelto per Dahlia Farmaestetica, tra le tante aziende, questa azienda che si chiama Micol. Intanto è un'azienda italianissima. 98%, quasi direi il 99% di prodotto naturale, con il loghetto che indica per vegan ok. Ma è interessante, diciamo, l'inci, ovvero tutti gli ingredienti, l'elenco degli ingredienti di ogni singola referenza. Perché come possiamo notare abbiamo pallino verde, pallino verde, giallo qualcosina, niente di pessimo. I prodotti, tutti quelli di Micol, non hanno siliconi, non hanno parabeni, senza paraffina, senza i pigmenti, non sono nemmeno testati su animali. E interessanti sono comunque i principi attivi all'interno. Tra questi tutti comunque hanno il mirtillo, che è un'ottima proprietà, lavora moltissimo sui capillari. E quindi va proprio a rinforzare la parete dei capillari, essendo anche un ottimo antiradicale libero. Ecco qua. Che di solito i siri sono abbastanza appiccicosi. Faccio questo movimento. Il prodotto viene totalmente assorbito. Non appiccica, la pelle non è lucida e quindi è veramente un prodotto confezionato con un'enorme consapevolezza. Un argomento che mi appassiona tanto è il mondo del make-up. Questo perché? Perché sappiamo tutti che grazie al make-up riusciamo a migliorare il nostro aspetto e quindi ad aumentare la nostra autostima e quindi a stare meglio col mondo esterno e con noi stessi. Oggi, più di ieri, sappiamo che è importantissimo quello che applichiamo sulla nostra pelle. Quindi stiamo sempre più attenti. Ed è per questo che dopo lunghe ricerche abbiamo deciso di puntare su questa linea, IDUN. È una linea svedese, di make-up svedese, studiata e fatta da una scienziata e dermatologa svedese, Loden. I motivi per i quali abbiamo deciso di puntare su questa linea sono diversi. Primo tra tutti perché è un make-up minerale. Quindi parliamo di minerali purificati al 100% da nickel, cromo e microcranismi. Inoltre non contengono profumi, siliconi, talco, parabeni, bismuto, nanoparticelle, quindi tutti quegli ingredienti che possono essere dannosi sulla nostra pelle. Tra l'altro, essendo minerale, ci protegge anche dai raggi solari. Inoltre, anche se è un make-up naturale, essendo minerale, ci garantisce una durata lunga nel tempo. Infatti io dico sempre che una volta applicato, col passare delle ore è come se a contatto con la nostra pelle si scalda, si amalgama e diventa tutt'uno, donandoci appunto questo aspetto di pelle sana, pulita. Un'altra piccola curiosità è che contiene alcune referenze, contengono l'olio di camemoro, nonché lampone artico, che contengono acidi grassi e vitamine. Quindi ci vanno anche a rigenerare e a calmare la nostra pelle. La novità del 2015 della collezione sono gli smalti, questa collezione di smalti, tutti con formula 5 free, ovvero non contengono canfora, formaldeide, toluene, phtalati e derivati della formaldeide. Tra l'altro molto bellino e anche molto carino è il packaging di questa linea, curato da Patrizia Gucci, della famiglia Gucci appunto, la quale si è ispirata alla dea della bellezza Idun. E in ogni referenza troviamo una bambolina diversa, un'immagine diversa. Quindi ecco, noi ci tengo a precisare che sì, siamo molto attenti alla cura della bellezza, della nostra bellezza, però stiamo sempre attenti a ciò, agli ingredienti, a ciò che applichiamo sulla nostra bellezza. Il cibo è, abbiamo capito dalle parole di Cecilia, una parte fondamentale del nostro essere, non a caso. Stasera qui c'è un angolo food and beverage. Allora, naturalmente particolare come abbiamo visto, siamo in compagnia di Serena Bonci, biologa nutrizionista che collabora con il centro Dalia. All'interno del centro Dalia Farmaestetica mi occupo di alimentazione, alimentazione che non riguarda solo il dimagrimento, ma che mira il miglioramento dello stato di salute del paziente, sia da un punto di vista dell'aspetto fisico, ma anche dal punto di vista di un eventuale quadro patologico, come nel caso di diabete, ipertensione o problematiche come stipsi, coliti e così via. Per fare questo, elaboro piani personalizzati, cioè che tengono conto della costituzione e delle singole esigenze del paziente che mi trovo di fronte, perché una dieta non va bene per tutti, ma deve essere costruita su misura. All'interno del centro Dalia Farmaestetica il raggiungimento di questo obiettivo è reso possibile ed efficace grazie ad un percorso di benessere integrato. Infatti, io e le mie colleghe prendiamo in considerazione il paziente in ogni suo aspetto, cercando di soddisfare ogni sua esigenza. Vorrei soffermarmi un attimo sul concetto di dieta. La parola dieta non significa restrizione, ma stile di vita. Quindi dobbiamo toglierci dalla testa che mangiando poco si riesce a dimagrire. Anzi, in questo modo mettiamo solo in grave carenza l'organismo, creando più danni che benefici. Quando si inizia una dieta non bisogna avvertire il senso di fame, perché è controproducente. Infatti, il paradosso è più mangi, più dimagrisci. Naturalmente cose giuste, perché in questo modo si mantiene sempre attivo il metabolismo, che viene invece rallentato con diete troppo restrittive. Non è importante, non bisogna diminuire la quantità degli alimenti, ma è importante la qualità e soprattutto le associazioni. Certamente, seguire un piano dietetico comporta dei sacrifici, soprattutto per quanto riguarda il cambio dello stile di vita. Ma il mio ruolo è proprio quello di guida, di agevolare il paziente in questo percorso. I sacrifici, poi, vengono comunque ampiamente riscattati dai benefici e questo lo vedo tutti i giorni. Però, insomma, spesso si è anche schiavi di cattive abitudini. Una di queste è sicuramente il rapporto ossessivo con la bilancia. Questo nella sua pratica penso che lo può constatare ogni giorno. Questo è controproducente, no? La bilancia diventa un po' un'ossessione per il paziente. Esatto. È vero, il concetto di dimagrire è legato semplicemente al lago della bilancia, ma le cose stanno diversamente. Infatti, perdere peso e dimagrire non sono la stessa cosa. Il peso è dato dalla somma di più fattori, che sono massa magra, massa grassa, acqua e ossa. E una buona dieta deve mirare solo la perdita di massa grassa e mantenere inalterate le altre componenti. Quindi, per bruciare un chilo di grasso, sono necessari all'incirca una decina di giorni. Quindi, perdere 7-8 chili in un mese non deve essere visto come un successo, perché indica che si sono persi altri elementi. Allora, che consigli, per chiudere questa piacevole chiacchierata, possiamo dare in questa fase? Quali sono le direttive che possiamo dare in questo momento? Allora, per seguire uno stile di vita corretto, direi innanzitutto di non saltare i pasti. Colazione, pranzo e cena sono infatti tassativi. Vorrei un attimo soffermarmi sul concetto di colazione, visto che molti ragazzi, ma anche molti adulti, hanno la cattiva abitudine di saltarla. La colazione è il primo momento in cui dobbiamo ridare energia all'organismo. Energia che durante la notte ha utilizzato per tutti i processi di detossificazione ed eliminazione delle sostanze dannose. Quindi, non fare una buona colazione, non dare i nutrienti di prima mattina, significa mettere in uno stato di allarme l'organismo, il quale, per tutelarsi, metterà in atto un insieme di meccanismi che faranno in modo tale che tutto quello che verrà introdotto durante la giornata, invece che essere carburato, verrà immagazzinato. E questo, a lungo andare, si traduce in un aumento di peso. Va bene, allora, quindi insomma i pasti, quindi non 5-6 pasti al giorno, diciamo che, togliendo gli spuntini... I tre pasti. I tre pasti, i classici tre pasti, colazione, pranzo e cena. Esatto, esatto. E poi soprattutto bambini, oltre a papà guida piano, ricordatevi di scrivere mangia... Mangia piano. Mangia piano, ecco, i bambini al papà gli mettono il cartello papà vai piano e mangia piano. Va bene. Qualcuno disse, noi siamo ciò che mangiamo, è a testimonianza del fatto che in questo contesto, corpo, spirito vanno a braccetto, questa sera un cibo anche particolare, cibo vegano. Sì, cibo vegano, studiato proprio per l'occasione, combinando frutta fresca, specialmente frutta rossa, mirtilli, ribes, melagrana, con verdure. Quindi declinando la frutta all'interno del salato, quindi nell'insalata e in alcune combinazioni più particolari. Ecco, nello specifico che cosa proponi? Allora, stasera abbiamo preparato un gaspaccio di pomodoro d'atterino e ribes, leggermente aromatizzato con dell'acidulato di umeboshi, che è un acidulato che dà nota basica alla nutrizione, un'insalata di grano, pardon, di riso selvaggio con mirtilli, tofu, caramellato e cumino, e un'insalata di cavolo nero, barbabietola marinata con un dressing alla melagrana. Ci sono profumi, ci sono essenze, c'è gusto? Assolutamente sì, possiamo creare grandissima complessità. E in più, a parte andando a pescare nell'esotismo e nelle cose più particolari, la cucina italiana, se si togliesse quel minimo di componente di origine animale, sarebbe prettamente vegana. Tant'è che nel nostro menù, nel ristorante Beauty Food, abbiamo lo spaghetto, aglio, aglio e peperoncino, che è l'icona dell'italianità. Siamo in compagnia di Gianluca, di Vinerie Clandestine, e un detto recita in vino veritas. Voi lo usate spesso e volentieri questo detto. Perché? Il vino è un alimento pieno di informazioni, è qualcosa a cui tutti devono affacciarsi, anche chi non beve, perché il vino è legato veramente a tante cose, alla nostra storia, alla nostra socialità, ai nostri territori. Questa sera io sono qua per raccontare anche qualcosa che interessa il vino da un punto di vista proprio organolettico, molecolare, quindi più specificatamente del resveratrolo. è questo biflavonoide, quindi un antiossidante a tutti gli effetti, che si trova sia nel vino rosso che nel vino bianco. Erroneamente a volte si pensa che il resveratrolo sia presente solo nel vino rosso. Per un fabbisogno giornaliero sarebbe necessario bere circa due o tre litri di vino, che è una cosa che mi farebbe molto contento, però non è assolutamente sana. Quindi è bene che integrare anche con, diciamo, prodotti sempre di qualità. Cosa abbiamo nei calici in quest'ora? Allora, questa sera abbiamo voluto e ho voluto portare Gelsomoro. Gelsomoro è il prodotto, unico prodotto che l'azienda di Silvia Giorgetti di Moro d'Alba produce e questa è la seconda annata in produzione. Questo è un vigneto che è stato piantato all'inizio degli anni 2000. In questo vino troviamo un uvaggio con la tipologia dei vini marchigiani, che sono il Sangiovese, il Montepulciano, che vanno a comporre peraltro le due doc del Piceno e del Conero e anche di una percentuale di lacrima, perché poi questa è la zona anche della lacrima, quindi in un uvaggio dove il 60% è Montepulciano, il 30% è Sangiovese e c'è un 10% di lacrima. Questo vino di questa sera, questa è la produzione dell'annata 2012, quella che stiamo bevendo ed è quella in vendita. La 2.11 ahimè è terminata, la 2.13 la stiamo aspettando perché questa azienda lavora, ripeto, con grande attenzione anche nelle fasi di affinamento, di maturazione dei vini, che mediamente tra la bottiglia e la cantina, intesa come maturazione nel tino di legno o di acciaio, che sia, è intorno ai tre anni. Quindi la produzione del 2012 la beviamo oggi, il 2015, ecco, sì. Bene, allora un brindisi finale ci sta alla persona, diciamo così, nella sua complessità. E al vino di qualità. E al vino di qualità. Salute. Questo speciale è stato realizzato da conduttori non iscritti all'ordine dei giornalisti. E al vino di qualità.